Ok, allora, come dicevamo, riprendiamo oggi il discorso sulle liste e ricominciamo a vedere insieme, a completare, la carrellata delle funzioni principali che le liste ci permettono di adottare. Qui ci sono degli suggerimenti, poi vedremo avanti la tabella completa, su quelli che sono i metodi principali, gli operatori principali e poi ovviamente noi dovremo sempre adattare quelli che sono, gli operatori che ci sono, che sono disponibili rispetto alle esigenze che abbiamo. Vedo la domanda di Alessandro in chat, parte già subito chiedendo, ma se io voglio eliminare più volte lo stesso elemento, cioè se un elemento della lista e voglio eliminarli tutti, come posso fare? Non puoi fare, non esiste, l'operatore remove ne cancella solamente il primo o il primo che incontra e quindi dovrai inserire questa operazione di cancellazione all'interno di un ciclo in cui ogni volta, finché ce n'è, ne cancello essenzialmente. E' proprio questo poi alla fine quello che dovremo imparare a gestire, cioè mettere insieme, costruire degli algoritmi che mettono insieme le funzioni, diciamo così, primitive, predefinite nel linguaggio, combinandole in modo da poter ottenere ciò che vogliamo. Questo lo faremo semplicemente facendo tanti esercizi, tanti esempi. Allora, giusto come per richiamo veloce di ciò che abbiamo visto ieri, aggiungere elementi a una lista in fondo, in coda, si può fare usando l'operatore di append. Attenzione che l'append riprende una lista e un elemento, non possiamo fare un append tra due liste, per cui se io avessi una lista con i numeri pari, una lista con i numeri dispari, non posso usare append, ma dovremmo usare la concatenazione che vediamo tra un attimo, l'abbia già accennato ieri sera. Se invece voglio inserire un elemento in una posizione che non è l'ultima, ma una posizione intermedia, uso l'operatore di insert, il metodo insert che va, diciamo così, a creare un nuovo spazio, si infila, nuovo spazio, tra due elementi esistenti, spostando tutti gli altri elementi avanti di una posizione. Se io volessi semplicemente sostituire l'elemento 1 con un valore nuovo, non mi serve nessun metodo, basta che io scriva friends di 1 uguale il nuovo valore, chiaramente, quindi usare semplicemente l'operatore di parentesi quadra di indicizzazione. Per quanto riguarda trovare gli elementi, abbiamo visto che in funziona, funziona solamente su valori esatti, index ci dice non solamente se l'elemento c'è, ma anche dove si trova, il problema, che abbiamo già accennato ieri, è che se index non trova l'elemento genera un errore, e quindi bisogna sempre prima controllare se l'elemento c'è e poi eventualmente eliminarlo. Cancellare elementi si può fare in due modi, o conoscendo la posizione, usando il metodo pop, e quindi il pop è di fatto l'inverso di insert, mentre insert fa spazio per un nuovo elemento, allarga la lista, infila un elemento in mezzo e sposta gli altri in avanti, pop fa esattamente il contrario, elimina un elemento che prima c'era, che prima era presente nella lista, lo elimina e prende tutti gli altri e li sposta indietro in una posizione verso gli indici inferiori. Ieri se non sbaglio qualcuno mi ha chiesto cosa capita se io a pop dimentico, non gli do l'argomento, non gli passo nulla, ho provato e cancella l'ultimo elemento della lista. Quindi il pop senza nulla mi estrae l'ultimo, se io non versi a estrarre il primo, mi faccio pop di zero e mi dà sempre il primo. Avevamo anche accenato ieri a come faccio a eliminare un elemento invece conoscendone il valore, non conoscendone la posizione. Quindi immaginiamo, proviamo a farlo direttamente come codice, di voler, diciamo, partiamo da una, elimina da una lista di numeri il valore 7. Allora io posso creare una lista di numeri, che ne so, da 1 a 20, che la chiamo numeri, uguale, potrei scrivere 0, 1, 2, 3, eccetera, fino a 20, però vi insegno un trucco, posso anche usare la funzione range per costruire una lista, quindi da 1 a 20 scriverò 1,21. No, range già lo conosciamo perché lo usiamo nei cicli for, quindi range genera una sequenza. Con l'operatore list dico, senti, costruisci una lista a partire da questa sequenza. E quindi se io eseguissi questa operazione, quindi ogni volta che vogliamo costruire una lista che contenga, diciamo così, i numeri ordinati che possiamo ottenere con un range, facciamo prima così che non scrive la mano, chiaramente uno dopo l'altro. Poi vogliamo cancellare il valore 7. Adesso fingiamo di non sapere che il valore 7 sta in settima posizione e quindi nella cella d'indice 6. Cosa potrei fare? Allora, per cancellare il valore 7 con le cose che già conosciamo. Prima di tutto, magari lo generalizziamo, non diciamo proprio il valore 7, ma una variabile da cancellare. Da cancellare uguale 7. Quindi, qua c'è il valore non 7, ma il valore da cancellare. Così, se al posto del 7 ci mettiamo un altro valore, possiamo comunque attestarlo. Allora, cancelliamo il valore 7. Prima di tutto, se c'è, lo trovo e lo elimino. Quindi io posso ragionare con tre passaggi. Uno, verifico se c'è. Due, determino dove si trova. Tre, lo elimino. Quindi, verificare se c'è. Verifico semplicemente se l'elemento da cancellare è presente nella lista di numeri. Usando l'operatore in. Se c'è, capisco dove si trova. E quindi a questo punto determino la sua posizione usando la funzione index. Numeri.index.d da cancellare. E poi lo elimino dalla lista numeri. Numeri.pop di posizione. Non ci dimentichiamo questo primo passaggio, perché se per caso, se per caso al posto di 7, ci fosse un numero che non esiste nella lista, tipo 27, allora questa operazione di index mi darebbe un errore. Quindi proviamo a vedere, io qua stampo la lista, print numeri, iniziale, e poi ristampo la lista subito dopo che l'ho modificata. Quindi questo qua in realtà mi dovrebbe stampare i numeri dall'1 al 20, e dall'1 al 20, in cui come vediamo qua, il numero 7 è stato cancellato. Ovviamente se ci fosse un, chiedessi di cancellare un numero, qua metto 27, che non esiste, non me lo cancella. Se io dimenticassi, avessi dimenticato di fare questa verifica, e quindi se avessi, fossi partito direttamente da queste istruzioni, scusate, devo togliere l'indentazione, allora col 7 avrebbe funzionato benissimo. Ma col 27 avrei un errore qua alla riga 14, in cui nella riga 14 effettivamente mi dice, attenzione, stai cercando un index, ma il 27 non è nella lista. Quindi questo è essenziale. Questo è un metodo. Un altro metodo c'è anche, ovviamente, alternativo, noi non l'abbiamo visto ieri, ma forse sulle slide non c'è neppure, c'è anche un metodo che si chiama remove. Da questa lista, il metodo remove che cosa fa? Riceve un valore e elimina la prima occorrenza di tale valore. Quindi di fatto mi fa già insieme l'index e il pop. Cioè io gli do il valore, il valore in questo caso 7, e lui cancella il primo elemento 7 che trova dentro la lista. Quindi in questo caso come potrei fare? Semplicemente posso sempre verificare se il numero c'è, se c'è basterà chiamare il metodo remove che cancella quell'elemento. commentando questa parte, lasciando l'altra, si comporta esattamente in un stesso modo. Anche qua questa if, per verificare se il numero da cancellare esiste, è fondamentale perché, come vedete qua nella documentazione, remove, se il valore non è presente, genera un errore, quindi interrompe il programma. Quindi io voglio evitare che mi generi quell'errore. Fatto così funziona come prima, chiaramente il 27 non lo cancella, ma il 7 invece lo cancella. Voi dicevate, qualcuno di voi diceva, ma io come faccio se volessi cancellare, se il 7 comparese più volte e volessi cancellarlo più volte. Allora proviamo a fare una lista che contenga più volte il 7, magari la lista da 1 a 11, ripetuta due volte. Allora anche qua, come già si poteva fare con le stringhe, posso mettere un per 2 e mi ripete la stringa due volte. Ecco, in questo caso ho creato una, guardate la prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 e poi l'ho ripetuta due volte. Quindi il 7 compare due volte, compare qua e compare qua. Se io cancello con la remove, ma esattamente sarebbe identico fare index e poi pop, togliendo l'elemento 7, il secondo 7 rimane uguale, rimane già dentro la lista. Se io volessi cancellarli tutti, basterà, come si dice nei giochi di animistica, cambiare una sola parola e basterà mettere un while al posto di questo if. Perché? La condizione del while mi va, innanzitutto, a verificare se questa condizione è vera. Allora, inizialmente è vera perché c'è un 7, c'è, e allora toglilo. Poi dopo che ho tolto quello, ne rimane un altro. E allora questa condizione la ricontrollo, è ancora vera, maledizione, allora devo di nuovo togliere il secondo, chiaramente. Dopo che ho tolto tutti due, questa condizione in diventerà falsa e allora non ho più niente da rimuovere. Quindi, voi vi lamentate che non c'è una funzione per fare tutto, vabbè, non ci sono funzioni esattamente per quello che vi serve. E' altrimenti le funzioni, qualcuno le ha scritte, ne ha scritte alcune, e quelle che mancano ve le scrivete voi. Perché anche le funzioni remove non arriva dall'alto, è anch'essa scritta in Python, semplicemente l'ha scritto qualcun altro al posto vostro. Quindi, non lamentiamoci, no? Del fatto che non ci arriva tutto già pronto. Vittoria cita che si può anche usare Dell, sì, ve lo faccio vedere poi in uno schimino riassuntivo, funziona. Dell però è analogo a Pop, perché devo passare la posizione da cancellare. Ve lo faccio vedere dopo. Ok, quindi, questa funzione remove è analoga a Pop, con la differenza che Pop ha bisogno di conoscere la posizione, quindi a volte conosco la posizione, mi va bene così, remove invece ha bisogno del valore, il valore che occupa una certa posizione, quindi ci pensa lui o lei, la funzione remove, a trovare qual è la posizione dell'elemento da cancellare. Poi, avevamo iniziato a vedere ieri la concatenazione di stringhe usando l'operatore più. L'operatore più già si poteva usare con le, scusate le stringhe, mi confondo sempre, le liste, già si poteva usare con le stringhe, volevo dire, si può usare chiaramente anche con le liste, con tutte le sequenze. In questo caso si crea una nuova lista, ecco, di tutta questa slide la parola più importante è questa, non è concatenare, non è più, non è stringa, non è lista, ma è nuova. In questo caso l'operatore più crea una nuova lista, ottenuta combinando gli elementi esistenti. Quindi dobbiamo ricordarcelo che non stiamo modificando la lista di partenza. Tutte le operatori che abbiamo visto finora, insert, pop, remove, modificano il contenuto della lista di partenza. Quindi se ho una, avessi anche degli alias, tutti questi altri alias che puntano la stessa lista vedrebbero la stessa modifica. mentre invece quando uso la concatenazione crea una lista nuova e quindi come abbiamo già cominciato a vedere ieri è che questo operatore di uguale, se riuso la stessa variabile sulla sinistra dell'uguale, rompe l'alias, quindi crea una lista nuova, crea una variabile nuova. Quindi ricordiamocelo. Esiste un metodo per aggiungere elementi ad una lista senza creare una nuova? Sì, esiste, non è molto famoso, si chiama extend, quindi l'idea è che se io avessi una lista, prendiamo la console, con i numeri da 1 a 5 ad esempio, uguale list range 1, 6. Quindi contiene i numeri da 1 a 5. Se io voglio aggiungere un singolo numero, sappiamo già come fare numeri.append 6. E lo vediamo, si aggiunge un elemento. Se io volessi, avessi invece una seconda lista di numeri, numeri grandi, che siamo le decine, chiamiamolo così, quindi sarà una lista in cui, list, in cui metto 10, 20, 30, 40, no? Range, 10, fino a 60, compasso 10. Quindi decine sarà 10, 20, 30, 40, 50. Numeri e decine. Quindi io posso costruire la concatenazione di numeri più decine e ho una nuova lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50. Ma questa lista l'ho semplicemente calcolata così, se per il fatto di scrivere numeri più decine non mi modifica né numeri né decine. Io dovrei questo valore assegnarlo a una nuova, se assegnassi nuova numeri, starei sostituendo la vecchia lista numeri con questa nuova, oppure la chiamo numeri 2 e allora a questo punto creo una lista nuova che contiene questi elementi. Io potrei anche usare l'operatore extend estendendo una lista con un'altra. Alla fine numeri contiene esattamente la stessa sequenza. la differenza qual è? È che in questa operazione ho creato una nuova lista quindi una copia senza modificare quella di partenza. Se io avessi scritto qua anzi che numeri 2 che ho scritto 2 per non perdermi quel valore ma numeri semplicemente avrei buttato via la lista vecchia e creato una nuova quindi rotto eventuali alias che numeri avesse. invece così ho modificato la stessa lista la stessa lista numeri. Quindi extend modifica la lista la lista è esistente non crea liste nuove invece l'operatore più invece crea una lista nuova. Venendo alle domande sulla chat mi chiedete se l'append rompe l'alias no append come extend modifica la lista in posizione vedetelo come come regola generale se dovete usare l'uguale per aggiornare un valore allora state creando una variabile nuova. Se invece usate semplicemente un metodo di questo genere questo metodo va a modificare la variabile da dentro quindi non crea nulla di nuovo ma semplicemente modifica il valore. Non modifico la variabile ma modifico il valore. Quando modifico il valore l'alias tutti gli eventuali alias rimangono validi perché il valore è sulla parte destra in certo senso che viene modificato. Se vogliamo ancora convincerci proviamo a mettere questa cosa qua in Python Tutor così lo vediamo anche graficamente. Abbiamo detto numeri è questo list range 10 60 10 e quindi abbiamo queste due liste numeri e decine adesso magari facciamoli vedere solo così a questo punto se io facessi numeri uguale numeri più decine se vedete è lo stesso numeri che viene modificato scusate è una nuova lista nuovo valore che viene costruito e la variabile numeri precedente viene semplicemente modificata se io creassi se io creassi degli alias chiamiamoli numeri 2 uguale numeri giusto per ricordarci per vedere dove vengono modificate le variabili dove no e decine 2 uguale decine andiamo un'istituzione per volta allora creo una lista e creo un secondo alias numeri 2 che punta alla stessa lista poi faccio la stessa operazione con la lista delle decine e quindi ho due liste per ciascuna delle quali ho due alias diversi per poterle identificare con questa operazione numeri uguali a numeri più decine sto creando una nuova lista e quindi sto rompendo l'alias infatti si vede che ho creato una nuova lista la variabile numeri adesso punta a questa nuova lista ma la lista precedente c'è ancora è ancora viva e la vedo ancora perché c'è almeno un'altra variabile almeno un altro alias che fa riferimento a quella lista se io invece tornassi indietro e qui sotto anziché questo scrivessi la stessa cosa con extend scriverei numeri punto extend decine torniamo indietro vediamolo un passo alla volta quando sono arrivato qui questa è la situazione di prima sono all'istruzione extend in questo caso sto modificando il valore non sto modificando la variabile numeri sto modificando il valore a cui questa variabile fa riferimento questo valore è questa lista e quindi modificherò questa zona qua gialla e gli alias le variabili non le tocco neppure infatti lo si vede questa stessa lista non si è spostata non è un'altra nuova sotto è stata modificata e le due e i due alias continuano a lavorare continuano entrambi a puntare alla stessa variabile tutte le volte che uso un uguale crea una variabile nuova e quindi dove puntava quella variabile si sposta punterà a una zona di memoria nuova a un valore nuovo se invece uso solamente dei metodi di questo genere modificherò la variabile molto spesso sul posto i metodi che modificano le variabili poi ci sono i metodi che non la modificano semplicemente magari tipo il metodo index che la analizza e restituisce un valore vediamo un po' le domande che sono comparse nel frattempo se sommo due liste c'è la possibilità di cambiare l'ordine all'interno della nuova lista c'è la possibilità di metterle in ordine sì poi lo vediamo tra un secondo il metodo sort serve a ordinare gli elementi non puoi fare cose complicate nel senso che puoi coordinare in ordine crescente o decrescente per numeri quindi per valore numerico o per ordine alfabetico ma cose più complicate te le devi fare a mano essenzialmente in un programma generico mi chiede Francesco qui sul metodo sort torniamo tra un attimo in un programma generico sarebbe opportuno utilizzare l'operatore extend o la concatenazione è uguale e dipende no non è uguale dipende dipende dai casi dipende che cosa volete fare se siete all'interno di una funzione in cui lavorate con variabili vostre fate ciò che volete non c'è nessun nessuna differenza tra l'effetto in assenza di alias se non avessi questi due alias non vedrei nessuna differenza in pratica la differenza capita solo quando abbiamo degli alias e quando è che saltano fuori questi alias riprendo un po' la domanda che avete fatto ieri del dubbio ma perché ci stai a contare queste cose perché quando vediamo le funzioni questo diventa importante quindi se io sto lavorando all'interno di una funzione allora mi devo chiedere sto modificando la lista di partenza o sto creando una lista nuova se invece sto lavorando in un programma principale o non all'interno di una lista che ricevo come parametro di una funzione non ci sono praticamente differenze ok quindi queste cose rischiano di essere sempre un pochino astratte finché uno poi non le mette in pratica facendo qualche esercizio altre operazioni semplici sono quella della moltiplicazione quindi la replicazione di una stringa più volte questa è facile il test l'operatore uguale o diverso funzionano anche ovviamente sulle liste allora due liste sono uguali se contengono gli stessi elementi ma anche nello stesso ordine altrimenti se hanno lunghezza diversa o elementi diversi o anche gli stessi elementi ma in un ordine diverso sono considerate diverse quindi non dobbiamo fare un loop per verificare l'uguaglianza di una lista ma basta semplicemente controllarla e poi sulle liste possono funzionare delle semplici funzioncine che ci risparmiano tanto lavoro che sono ad esempio somma massimo e minimo che noi abbiamo già imparato sappiamo già come costruire calcolare la somma di elementi di una lista basta fare un ciclo e ogni volta aggiungo a una variabile accumulatore il valore che trovo nella prossima posizione della lista ma poiché è un'operazione talmente fondamentale è già stata definita una funzione direttamente in Python nella libreria standard che ci dà la somma dei valori di una lista ovviamente purché siano sommabili tra di loro ok devono essere tutti i numeri oppure mi dà il massimo oppure mi dà il minimo questo è sbagliato perché mancano le parentesi quadre qua quindi perché questa non è una lista di tre elementi sono tre argomenti fatemelo correggere subito al volo prima di che l'errore prima che mi dimentichi di correggerlo dove era finita concatenazione replicazione eccolo qua qui ci sono le parentesi quadre da aggiungere ok eccolo qua che prima non c'era vediamo il metodo sotto l'ordinamento esistono allora innanzitutto l'ordinamento significa disporre gli elementi di una lista in un ordine crescente o decrescente secondo il loro tipo se sono numeri saranno dal valore diciamo così reale minore al valore maggiore se sono stringhe avverrà l'ordinamento in ordine lessicografico quindi l'a viene prima della b le maiuscole vengono prima delle minuscole e secondo diciamo così i valori numerici della tabella unicode che avevamo visto a suo tempo ok ci sono due metodi per ordinare una lista uno è il metodo sort che si applica alla lista quindi è un metodo che si applica col punto e ordina la lista sul posto quindi modifica il contenuto della lista stessa ordinando dei suoi elementi rimescolando i suoi elementi invece la funzione sorted è una funzione e come tale prende una lista e restituisce crea una lista nuova che contiene una coppia degli elementi della lista di partenza messi però in ordine e quindi la funzione sorted mi dà una nuova lista e non modifica i valori della lista di partenza quindi ci sono due modi diversi perché hanno due effetti diversi allora il risultato calcolato è lo stesso metto in fila gli elementi dal più piccolo al più grande ma nel primo caso modifico la lista di partenza nel secondo caso creo una nuova lista anche voi mi chiedete quale dei due devo usare dipende dal fatto che mi serva oppure no ancora il valore precedente della lista con gli elementi nell'ordine di partenza in automatico questo metodo sort vi dà l'ordinamento crescente se volessimo un ordinamento decrescente si può usare il parametro opzionale che si chiama reverse quindi reverse uguale normalmente sottinteso false e mi dà l'ordinamento crescente normale se volessi l'ordinamento decrescente dovrei piazzare un reverse uguale true e allora mi dà i numeri dal più grande al più piccolo o le stringhe dalla z alla a massimiliano mi chiede se dentro la stringa compaiono sia numeri che stringhe la funzione sum somma solamente i numeri ignorando le stringhe o da errori direttamente no deve essere una stringa di la sum e la massimo e il minimo devono essere liste di numeri o liste di stringhe non miste altrimenti non avrebbe molto senso perché alla fine internamente cosa va a fare il sum va a fare i confronti confronti ciascun elemento con quello col massimo minore col massimo trovato finora e se io faccio un confronto tra un numero e una stringa l'operatore di confronto dà errore in certo senso dice che quell'operazione non è legittima ok poi c'è un altro operatore molto potente devo dire che ve l'ho tenuto stessa cosa nei metodi sort sì certo le operazioni hanno senso dove gli elementi tra di loro siano la definizione esatta sarebbe più più complessa ma diciamo così intuitivamente l'importante è che gli elementi della lista siano confrontabili tra loro quindi ad esempio se avessi un po' di interi un po' di floating point funziona tutte stringhe funzionano ma il misto dei due non funzionerebbe un operatore invece che vi abbiamo tenuto nascosto ma non tanto perché molti di voi hanno già cominciato a usarlo sulle stringhe è un operatore molto potente che è l'operatore di porzione o di slice questo è un modo molto comodo di andare a estrarre una sottosequenza di elementi o più che estrarre identificare una sottosequenza di elementi all'interno di una lista più ampia cosa succede? vuol dire che noi all'interno delle parentesi quadre anziché mettere un indice solo mettiamo due indici l'indice di partenza e l'indice di arrivo separati dal due punti ok? non c'è una virgola non c'è un punto c'è un due punti qua è una sorta di range l'operatore di slice in funzione esattamente con la stessa logica della funzione range elemento di partenza compreso elemento di arrivo escluso quindi una slice una fetta una porzione da 6 a 9 contiene gli elementi 6, 7, 8 contiene 3 elementi quindi la lunghezza della slice chiaramente è 3 data dalla differenza tra il primo valore e l'ultimo valore allora in questo caso l'operatore di slicing mi estrae dalla stringa di partenza quegli elementi che stanno in quelle posizioni sotto forma di una lista scusate ho letto stringa prima volevo dire lista una nuova lista che contiene gli elementi in quelle posizioni sotto forma di nuovo di lista quindi se io prendessi andiamo a vedere il codice la mia lista avevamo detto numeri che conteneva questi valori qua e io volessi che ne so questi elementi qua per dire allora sono gli elementi che sono in posizione 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 gli elementi in posizione tra le 4 e la 7 la cosa si può fare specificando una slice dall'elemento 4 compreso all'elemento 8 escluso e mi darà una nuova lista che contiene questi elementi 5, 6, 10, 20 5 elementi consecutivi quindi è l'opposto dell'operatore di concatenazione la concatenazione prende dei pezzi di string e li mette in unica stringa che li contiene tutti i valori lo slice invece estrae un pezzettino e quindi butta via le parti iniziali le parti finali e mi da solamente la sottoparte che mi serve poi ho ovviamente delle abbreviazioni se io dimentico di mettere il secondo elemento lo metto non lo specifico mi da da quell'elemento fino in fondo quindi il valore sottinteso del secondo elemento è la fine della stringa viceversa il valore sottinteso del primo elemento se cancello il primo elemento l'indice di partenza sarà 0 il valore sottinteso e quindi mi da dall'inizio della stringa fino all'elemento di indice 7 cioè 8 escluso posso anche fare una cosa più strana cioè dimenticare sia il punto di partenza che il punto di arrivo questa è una sintassi che comincia a diventare poco leggibile e quindi mi da mi estrae una lista che contiene tutti gli elementi dal primo all'ultimo perché sottinteso come valore come indice iniziale è il primo sottinteso come valore l'indice finale è l'ultimo e quindi me li da tutti e me li ha dati tutti a cosa serve? serve a fare una copia questo è un altro modo per fare una copia di una lista quindi posso avere una nuova lista prendendo la lista di partenza e estraendo la porzione completa questa istruzione è esattamente equivalente a farsi creare una nuova lista a partire da quella di partenza quindi è un trucco che a volte si scrive una scorciatoia che a volte si scrive per dire voglio fare una copia e non faccio invece un alias ok? Michele mi chiede se lo slice crea fisicamente una nuova lista sì, assolutamente sì lo possiamo anche vedere nel Python Tutor dove avevamo questa lista numeri io faccio una porzione che è una slice di numeri da avevamo detto 4 a 8 e mi dà una lista nuova se io avessi una variabile copia in cui cerco di fare una slice completa opla parentesi quadra due punti vedete che copia è una lista nuova che contiene qua copia che contiene gli stessi elementi che conteneva la lista numeri quindi ogni volta che applico uno slice creo una lista nuova da zero quindi non creo mai un alias e quindi diventa una lista indipendente che viene semplicemente inizializzata con i valori di partenza ma poi ha la sua vita nel senso che se io poi modifico la copia la numeri invece non viene modificato per nulla Samuele mi chiede non c'è una forma di slice che modifichi solo la lista di partenza quindi tu cosa vuoi fare vuoi eliminare degli elementi della lista di partenza lasciando vivi solamente quelli capito bene ciò che intendi fare sì si può fare usandolo però la slice alla sinistra dell'uguale come vi faccio vedere adesso 4 e 8 Alessia stanno a indicare le posizioni sì gli indici l'indice di partenza e l'indice di arrivo quindi 4 e 8 in questo caso indicano vedi qua l'indice 4 quindi prende l'elemento di indice 4 5 6 e 7 l'8 invece è escluso così come se facessi un range ok se io volessi riscrivere questo senza usare l'operatore di slicing slicing potrei usare semplicemente un ciclo me lo faccio io porzione 2 uguale lista vuota for i in range 4 8 porzione 2 punto append numeri di e ho esattamente la stessa cosa non c'è nulla di magico cioè tutto si può fare alla fine con i cicli e con gli indici poi ci sono questi metodi più comodi per ottenere lo stesso risultato questo ci dice anche se che se anziché estrarre un insieme di elementi consecutivi volessi estrarne il primo il settimo il quarentaseiesimo chiaramente lo slice non è capace a farlo me lo posso fare a mano diciamo così con un range quindi queste tre righe sono esattamente equivalenti alla riga 10 che abbiamo scritto prima allora veniamo alla modifica usando gli slice qui ci fa vedere le scorciatoie è possibile usare una slice anche alla sinistra dell'uguale scusate non riesco a dire porzione in italiano perché è una traduzione che mi fa schifo però proprio questa è quella che usa il libro quindi continuo a usare slice possiamo usare anche una slice alla sinistra dell'uguale e in questo caso lui sostituisce agli elementi che sono in quella posizione in quell'insieme di posizione dei nuovi valori quindi così come noi potevamo prendere un singolo elemento e sostituirlo ad esempio io ho la mia lista nuova che era questa e al posto del 6 ci voglio mettere il 9 ok quindi questo è l'elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5 in posizione 5 vediamo se è vero nuova di 5 si è il 6 allora al posto del 6 ci metto un 9 e quindi questo fin qua nulla di nuovo semplicemente ho usato l'indicizzazione per andare a selezionare l'elemento che volevo cambiare quindi al posto del 6 ci sta il 9 ma immaginiamo che invece adesso al posto di questi tre elementi voglio mettere tre volte 9 potrei fare nuova di 3 uguale 9 nuova di 4 uguale 9 nuova di 5 uguale 9 oppure semplicemente nuova dalla posizione 3 alla posizione 5 ossia 6 escluso uguale diciamo 19 così cambia 3 volte 19 quindi ho identificato tre posizioni nella lista ho identificato una lista di tre elementi e questa istruzione mi va a rimpiazzare tutti e tre gli elementi di quelle posizioni senza toccare il resto della stringa così e fin qua è una scorciatoia per rimpiazzare una certa serie di elementi consecutivi con degli elementi presi da un'altra lista e questo operatore questo diciamo così meccanismo è più potente ancora perché qui c'è una nota che dice attenzione che se la lunghezza della stringa rimpiazzo è diversa dalla lunghezza della porzione verranno aggiunti o rimossi gli elementi in eccesso o gli elementi in difetto quindi questo vuol dire che questa operazione qua se io l'avessi fatta non con una stringa lunga una lista lunga tre elementi ma con una lista lunga sei elementi sei elementi e così colgo anche il suggerimento di Daria che mi dice potevi fare per tre è vero se io faccio per otto cambiamo non mettiamo più diciannove mettiamo novantanove dai allora sto cercando di mettere una lista lungo otto è chiaro a tutti che questa è una lista che contiene novantanove 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 otto volte sto cercando di mettere una lista lunga otto dentro una posizione che ha solamente tre posti non scoppia nulla semplicemente viene fatto posto per la nuova stringa se vado a vedere la nuova stringa a questo punto contiene abbiamo tolto i tre diciannove non ci sono più e al posto di tre diciannove abbiamo messo gli otto novantanove e poi la stringa continua come se nulla fosse questo quando lo sostituisco con una più lunga potrei sostituirla con una più corta quindi al posto di questi otto novantanove adesso sono troppi non mi piacciono ci voglio mettere qualcosa di più corto quindi questi qui vanno dall'indice 0 1 2 0 1 2 3 dall'indice 3 all'indice beh sono 8 quindi 3 più 8 fa 11 quindi fino all'indice 10 potrei mettere semplicemente una lista più breve 44 44 44 i due elementi volendo allora cosa succede che la la slice di 8 viene tolta e viene sostituita da una lista di 2 e quindi al posto di tutti i 99 erano 8 sono stati tolti e ho messo una lista da 2 di 44 ok quindi in questo caso è molto facile rimaneggiare la lista se so ovviamente quali sono le posizioni che mi interessano posizione di partenza posizione di arrivo cosa c'entra questo con la domanda che mi aveva fatto prima forse Samuele cioè come faccio a cancellare degli elementi modificando la lista di partenza e beh come caso particolare io posso assegnare a una slice una lista vuota allora in questo caso delle due operazioni tolgo la lista vecchia e inserisco quella nuova e inserisco quella nuova non fa nulla e quindi in questo caso cancella tutte le posizioni che ne sono dalle 3 alle 6 quindi mi cancellerà 44 44 e 10 vediamo se è vero giustamente al posto di queste tre posizioni qui c'è ma non si vede cioè non c'è una lista vuota che ho appena inserito quindi con questo giochino addirittura potrei per assurdo sostituire tutti gli elementi di una lista con nessun elemento e quindi di fatto mi riporto la lista nuova a una lista vuota tenete presente che tutte queste operazioni con le slicing modificano il valore e non la variabile e quindi l'alias non si rompe l'alias viene mantenuto quindi tutte queste operazioni qua è vero che c'è l'uguale ma c'è prima un operatore di indicizzazione quindi l'uguale va a modificare i valori indicizzati non va a modificare la variabile che rappresenta la lista se secondo l'indice auto range non lo so facciamo in modo di non usare l'indice auto range se voi siete bravi a farmi sempre le domande su che cosa succede se do i parametri sbagliati cerchiamo di darli giusti poi se do i sbagliati in qualche modo o da errore o considera l'ultimo non lo so ma preferisco evitare di saperlo nel senso di evitare di trovarmi nella situazione di dover ragionare con dei dati strani possiamo provare a farlo ma al momento non trovo neanche nessuna giustificazione perché possa essere utile altre due note sempre sull'operatore di slicing una è che funziona anche con i numeri negativi ovviamente l'ultimo elemento quindi immaginiamo di avere riprendiamo di nuovo nuova uguale numeri prendiamoci la coppia dei numeri quindi questa nuova la ripristiniamo così com'era per fortuna numeri l'avevamo ancora salvata non l'abbiamo modificato quindi se io volessi rimpiazzare l'ultimo numero che è il 50 a questo punto potrei semplicemente scrivere o gli ultimi due numeri potrei scrivere da meno 2 a meno 1 uguale 3 3 e chiaramente ho sbagliato perché da meno 2 a meno 1 mi ha sostituito questo guardate qua cosa ho fatto qui mi ha modificato non il penultimo e l'ultimo ma il penultimo e il terzo ultimo certo perché meno 2 è il punto di partenza meno 1 è il punto di arrivo però questa è l'idea l'altra cosa ancora più utile è che l'operatore vi ho detto prima l'operatore di slicing funziona come una funzione range la funzione range mi dà l'elemento di partenza il valore di arrivo e però range ha anche un terzo parametro che è il passo ecco anche qua si può usare un terzo parametro che è l'operatore passo quindi se io volessi estrarre da tutti i numeri solamente uno sì e uno no potrei scrivere ad esempio che ne so dalla posizione 0 alla posizione che ne so 10 con passo 2 quindi range a tre parametri valore iniziale compreso valore finale escluso e passo incremento lo posso usare anche con lo slice e quindi in questo caso mi da quello in posizione 0 quello in posizione 2 quello in posizione 4 quello in posizione 6 quello in posizione 8 e non non quello in posizione 30 non quello in posizione 10 perché è 10 ovviamente il punto di arrivo ed è escluso e quindi me lo dà con passo 2 ma la cosa interessante vabbè ci può servire non è molto frequente aver bisogno di una cosa di questo genere ma la cosa interessante del passo è che può anche essere negativo qui c'è una scorciatoia che si usa spesso che è questa 2 punti 2 punti meno 1 cioè lascio sottinteso il punto di partenza che vuol dire l'inizio della stringa sottinteso il punto di arrivo che vuol dire la fine della stringa e il passo negativo meno 1 questo che cosa farà? mi istituirà una copia della stringa al contrario dall'ultimo elemento verso il primo rovesciata al contrario della lista non della stringa quindi vi ricordate l'esercizio che abbiamo fatto con le stringhe che dovevo prendere una stringa e stampare dall'ultimo carattere verso il primo? così bastava scrivere questo conoscendo l'operatore di slicing chiaramente anziché fare il ciclo questa è l'ennesima dimostrazione con le con le quattro conoscenze di base cioè i cicli le variabili le stringhe l'indicizzazione delle liste posso fare tutto poi magari ci sono delle scorciatoie che mi permettono di avere già il metodo già la funzioncina già l'operatorino per fare ciò che mi serviva doppi due punti perché io ho tre parametri elemento di partenza elemento di arrivo e passo elemento di partenza elemento di arrivo li lascio sottintesi non li metto e metto solamente il terzo valore e quindi ho elemento di partenza due punti elemento di arrivo due punti passo l'elemento di partenza elemento di arrivo non li scrivo perché li lascio sottintesi però il due punti va messo due volte in modo che il meno uno venga compreso come passo altrimenti verrebbe compreso come elemento di arrivo dello slice ok e quindi questo ci evita tante fatiche in compiti noiosi ma ricordiamoci sempre che il fatto di usare questo metodo diciamo così più avanzati più veloci non ci esime dal dover conoscere come si fanno le cose a mano voi dite che era più bello potevi dircelo prima sì però se io poi vi chiedessi di stampare in ordine inverso ma solamente le lettere le consonanti oppure solamente lettere maiuscole allora non c'è l'operatore di slicing che te lo fa te lo devi comunque fare col ciclo quindi dobbiamo essere in grado di fare le due cose sia gestirmi le cose a mano passo un'operazione per volta sia magari anche di conoscere le scorciatoie per potercela diciamo così cavare un po' più facilmente quindi queste tabelle qui i finali riassumono un po' i vari operatori che abbiamo visto la costruzione di una lista vuota o di una lista che contiene degli elementi la lunghezza la copia la replicazione la concatenazione lo slicing sul libro non parla del terzo parametro ma un'estensione ovvia rispetto al al funzionamento della funzione range che invece abbiamo già conosciuto bene massimo minimo somma e e test di uguaglianza e poi ci sono i metodi per modificare le liste che sono pop cancella l'ultimo elemento pop di una posizione cancella l'elemento in quella posizione insert e append l'abbiamo visto già all'inizio inserisco aggiungo un nuovo elemento o al fondo o in una posizione che decido io index cerca un elemento remove lo cerca lo trova lo cancella sort mette in ordine la stringa queste altre due tabelle adesso non ci sono nelle slide perché le ho aggiunte solo questa mattina ma poi le aggiorno ovviamente diciamo riassumono sono un pochino più diciamo approfonditi riassumono anche qua gli vari operatori quindi in e not in concatenazione replicazione slicing nelle sue tre forme quindi di fatto l'indice semplice il range e il range con un passo e anche l'operatore di index in realtà index sarà quello che trova un elemento all'interno di una lista può avere un secondo o un terzo parametro opzionali che mi dicono qual è la porzione di stringa all'interno della quale cercare l'elemento quindi potrei cercare se c'è un elemento non in tutta la stringa ma solamente dal quinto all'ottavo carattere ad esempio se mi serve e poi ci sono le operazioni per modificare le liste modifica un singolo elemento modifica una slice quindi un insieme di elementi consecutivi prendendole da un'altra lista è anche possibile usarlo con una slice con un certo passo aggiunge clear è un metodo che svuota la lista quindi toglie tutti gli elementi mantenendo la stessa lista mantenendo lo stesso alias in certo senso non crea una nuova lista tutti questi metodi non creano nuove liste ma modificano le liste esistenti copy crea una copia che è la stessa cosa che scrivere liste quindi un altro modo extend l'abbiamo visto è un modo alternativo per poter aggiungere a una lista esistente una nuova lista aggiungendolo in fondo senza modificare la variabile stessa quindi modifica il valore della lista qualcuno già prima nella chat aveva detto guarda che la stessa cosa la puoi fare con l'operatore che si chiama più uguale sì sono equivalenti extend o più uguale fa la stessa cosa a me pare così intuitivamente più 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 chiaro extend perché si vede che è un'operazione che fai sulla lista e non c'è questo uguale che potrebbe creare una 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 modifica sì ho aggiunto un paio di slide quindi ve le carico poi nel pomeriggio queste aggiornate sono solamente due slide in più che ho preso direttamente dalla documentazione di python visto che così almeno abbiamo una mappa completa tra l'altro vedete qua i trucchi che si fanno con lo slicing extend è equivalente ad aggiungere la nuova lista t in uno slice che è fatto di zero elementi messi al fondo della stringa è una buona contorsione mentale è uno slice di ampiezza zero posizionata dopo l'ultimo elemento perché l'nds sapete che già non esiste più già come elemento e quindi si può sostituire un altro modo di scrivere cose io vi consiglio sempre scrivete le cose in modo leggibile perché se vi sembra se vi pare di sembrare perché purtroppo succede così ci sentiamo più intelligenti a scrivere un'espressione complicata guarda quanto bravi siamo stati ricordatevi che voi domani mattina quando vi svegliate rileggete quel colcio e dite ma cosa ho scritto lì funziona ma non capisco più come funzionava quindi la chiarezza del codice la semplicità del codice è molto più importante che non la contorsione per far vedere quanto sono bravo e quanto sono arzigogolato le altre le abbiamo già viste la insert la pop aggiunge un elemento la pop la pop elimina un elemento in una certa posizione remove e cerca l'elemento per valore e lo elimina non mi convince questa parentesi ah scusate questa parentesi quadra qua non c'entra niente con la parentesi quadra della lista stanno a indicare che questo parametro è opzionale quindi posso metterlo o non metterlo se non metto il parametro cancella l'ultimo l'ultimo elemento reverse mi restituisce una lista anzi no non mi restituisce una lista diciamo così inverte l'ordine degli elementi all'interno della stessa lista quindi se ho una lista che fa un 2 3 4 come reverse modificherò gli elementi in modo che saranno in ordine inverso rispetto a prima quindi 4 3 2 1 quindi questa è la diciamo così documentazione completa delle operazioni che posso fare con le liste Marco mi chiede di parlare un attimo delle liste qui è un altro sito in cui ci sono anche lì tutte queste varie operazioni con il link Marco mi chiede di parlare di liste di booleani di varie booleane sì non c'è nulla di particolare cioè io posso avere una lista che contiene anziché dei valori numerici dei valori booleani true false 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 true non ha nulla di nulla di diciamo così di speciale o di diverso rispetto agli altri ovviamente se io cerco di ordinare me stamperà prima tutti i falsi e poi tutti i veri ho solamente due valori possibili e poi potrò usarla ad esempio in un if ad1 fai qualcosa questo ad1 chiaramente avrà un valore vero o un valore falso e non ho bisogno di fare confronto uguale uguale true uguale uguale false come tutti i valori booleani però non non pongono particolari difficoltà potrei averla magari per ricordarmi una serie di test una lista che mi dice se i vari numeri sono numeri primi sono multipli eccetera allora avrò un true e false che mi dice se vale o non vale una certa proprietà attenzione Filippo che mi dici che con reverse posso stampare la stringa al contrario reverse non stampa la stringa al contrario ma inverte gli elementi della stringa quindi se io ho numeri e faccio numeri.reverse poi è i numeri stessi che è stato modificato quindi poi l'ho modificata rimane modificata al rovescio quindi poi sì la posso stampare ma ricordiamoci che poi l'ho modificata quindi se io facete poi il reverse una seconda volta chiaramente me lo rimette a posto se volessi solamente stamparle al contrario senza necessariamente modificarla allora il metodo più veloce è quello che dicevamo prima di fare una slice che va al contrario e non me la modifica s uguale ah ecco buona domanda Alessia se s sort uguale reverse true la scrivo qua e s reverse è la stessa cosa no abbiamo fatto un esempio diciamo così in cui questa lista è una lista crescente quindi le due cose si confondevano però se io avessi una lista B che contiene dei numeri a caso 3 8 1 7 42 meno 6 ok fare reverse mi rovescia all'ordine con cui appaiono quindi B.reverse mi dà una lista che contiene gli stessi valori ma dove l'ultimo il meno 6 va a finire per primo 42 va a finire per secondo eccetera se io facessi B.sort invece mi stampa la lista mettendo i numeri in ordine qua non sono in ordine li avevo inseriti in ordine sparso guardate faccio spazio così li vediamo tutte e tre li avevo inseriti in ordine sparso 1 7 42 un po' salgono un po' scendono non c'è un ordine ben definito e quindi il reverse semplicemente la rovescio come un calzino ma se erano disordinati rimangono disordinati se io faccio un sort invece me li mette dal più piccolo al più grande e se facessi un sort reverse me li mette dal più grande e dal più piccolo quindi dal 42 fino al meno 6 quindi sono due concetti diversi l'ordinamento o l'ordinamento inverso vanno sul valore ok dal valore più piccolo al valore più grande invece l'operazione di reverse semplicemente gioca sulle posizioni cioè gli scambio di posto senza stare a guardare quale è più grande e quale è più piccolo per fare un altro esempio se io avessi una stringa che contiene un numero e una stringa cioè una lista che contiene un numero e una stringa io potrei tranquillamente chiamare reverse di questo e da 4x me lo fa diventare x4 però se provassi a fare un sort di questa roba qua dovrei in teoria ricevere una pernacchia che mi dice no che i valori non si possono confrontare quindi reverse è un'operazione puramente strutturale rimescola gli elementi senza guardarli la sorte invece va a vedere il valore e diciamo così ragiona sull'ordinamento diciamo così crescente o decrescente allora Roberto fa una domanda che proviamo a vedere mi dice lista mi stai dicendo copiamo la domanda qui come abbiamo fatto prima perché lista 1 tutta uguale lista 1 di 0 mi dia errore allora proviamo a fare una lista a uguale che sono list facciamo dei valori al caso 4, 5, 6 quindi a di due punti stai scrivendo uguale a di 0 ah certo certo ho capito quello che stiamo facendo quando assegniamo uno slice dobbiamo assegnare una lista quindi qui stai dicendo al posto dell'intero contenuto della lista A ci metti un'altra lista peccato che a di 0 non sia una lista ma sia il numero 4 è solo un numero semplice guardalo a di 0 non è una lista è un 4 per cui per fare questa operazione io devo costruire una lista che contiene solamente il valore 0 così oppure devo essere esplicito sul fatto che a me interessa una lista che contenga l'elemento 0 quindi ad esempio creo uno slice di un elemento solo quindi quando io assegno a uno slice sulla destra dell'uguale devo avere una lista non devo avere un elemento solo ok e quindi se io usassi una di queste due sintassi la lista che contiene un solo elemento e questo elemento casualmente è A di 0 mi funziona e quindi contiene solamente il 4 la stessa cosa se avessi a questo punto lo slice singolo è sintaticamente corretto quindi non dobbiamo mai confonderci quali espressioni sono di tipo numerico o quali espressioni siano di tipo lista tra l'altro non dobbiamo neanche confonderci ad esempio tra append e extend supponiamo che io abbia una lista con i numeri pari 0 10 2 e una lista con i numeri dispari dispari uguale list range 0 10 1 10 2 quindi una lista con i pari e una lista con i dispari vogliamo metterli insieme no? noi sappiamo che si può fare extend ditemi cosa succede secondo voi se io facessi pari punto append dispari allora append è pensato no? non è un errore non dà errore è pensato per aggiungere un singolo numero un singolo valore alla fine della lista aggiunge in fondo modifica la lista pari ma alla fine questa lista pari finita come sarà? non aggiunge i numeri dispari alla fine no? Michele ci è andato più vicino di tutti aggiunge la lista dispari come ultimo elemento cioè dispari cos'è? è una lista append che cosa dice? cara prendi la lista di partenza pari e aggiungi un nuovo elemento questo nuovo elemento che cos'è? è una lista va bene lo faccio allora che cosa ottengo? è una lista che contiene prima avevo 5 elementi adesso ne conterrà 6 1 2 3 4 5 6 il sesto elemento non è più un numero ma è una lista a sua volta una lista dentro una lista sì se noi lo volessimo vedere con Python Tutor così ci rendiamo conto che è davvero così cancelliamo questa roba pari uguale range list di range di 0 10 2 l'abbiamo scritto dispari uguale list di range 1 10 2 pari punto append dispari e vedete che la nuova lista pari contiene 0 2 4 6 8 e poi un riferimento all'altra lista quindi all'interno di questa lista nella posizione 5 non ci sta perché ha cancellato la frecciolina ecco non ci sta un numero ma ci sta un riferimento a un'altra lista questo forse non era quello che volevamo magari ci può servire a volte ma in questo caso non ci serviva perché in realtà ci siamo confusi quello che volevamo scrivere era extend allora extend prende il contenuto di una seconda lista e lo aggiunge un buon apposizione per volta all'interno della stringa è ovvio che non possiamo anche dobbiamo fare attenzione al contrario che se io voglio aggiungere un numero che ne so 100 come numero singolo ha senso usare append se invece uso extend mi dà errore perché mi dice che 100 questo is not terrible vuol dire non è una lista quindi l'extend si aspetta di ricevere una lista non trova una lista trova solamente un numero e si blocca un po' come l'errore che avete segnalato prima voi dove facevo a di zero che era un numero e non era una lista quindi questo richiede un minimo di ragionamento ogni volta chiediamoci sempre questa variabile qui in questo momento che valore ha cos'è una lista o un numero soprattutto append extend hanno dei nomi che un po' si confondono hanno dato questi nomi qua però extend ha bisogno di una lista append ha bisogno di un valore singolo se poi questo valore a sua volta è una lista amen con extend modifichiamo la lista pari sì entrambi i metodi sia extend che append modificano la lista di partenza quindi tutti questi sono tutti i metodi che modifichano la lista nessuno di questi crea una lista nuova ok quindi queste sono diciamo così piccole trappole in cui si rischia poi di cadere noi più avanti la settimana prossima vedremo proprio l'uso di liste dentro liste per poter fare delle tabelle bidimensionali allora a questo punto abbiamo una lista per le righe e una lista per le colonne e useremo proprio questa possibilità però come abbiamo già detto tante volte dove ci sta un valore una variabile in qualunque tipo ci può stare veramente qualunque cosa quindi posso fare una lista con dentro una stringa e poi un'altra lista che contiene dei numeri le posso combinare come voglio il primo a confondersi ovviamente sono io e non è l'interprete Python e queste quindi sono le operazioni di base con queste operazioni di base alla fine costruiamo i programmini le funzioni che ci servono i programmini adesso qua c'è una carrellata di cose che a questo punto sono anche abbastanza semplici ad esempio questo ci chiede crea una lista che contenga i quadrati di numeri interi quindi non la lista non la posso costruire con un range perché il range mi dà semplicemente la sequenza di numeri interi se mi servono i quadrati cosa posso fare semplicemente elenco i numeri interi da 0 a n-1 calco il loro quadrato i per i e aggiungo a una lista di valori che inizialmente era vuota aggiungerò ogni volta il valore successivo quindi questo sono obbligato a farmelo col ciclo perché ovviamente non c'è nessuna funzione predefinita che mi possa già fare questo se ho gli elementi di una lista e devo fare qualche operazione ad esempio dovessi fare la somma vabbè è vero che c'è già la funzione sum che mi fa già la somma dei numeri di una lista ma se volessi fare altri tipi di operazione posso semplicemente ricordarmi che si può iterare in una lista semplicemente con l'operatore for in se questa lista è una lista di numeri mi farà la somma aritmetica se questa lista è una lista che contiene stringhe vabbè allora il risultato dovrò inizializzarlo con una stringa vuota e non con un valore numerico zero e questo più verrà interpretato come concatenazione di stringhe quindi metto insieme tutte le stringhe di una lista Antonio cita le list comprehension che è un modo una scorciatoio molto utile però abbiamo deciso di non trattarle in questo corso ma sicuramente si possono usare che è un modo per incapsulare in un'unica riga alla fine il ciclo for questo è comodo se io ho una lista che ne so di nomi e voglio stampare la lista stessa dei nomi quindi io posso avere fatemi fare un piccolo programmino qua la lista degli amici che sono i nomi qui o qua e paperoga una lista di nomi di stringhe e voglio stampare chi sono i miei amici allora questo lo posso fare con un semplicissimo for for amico in amici due punti print amico del singolo amico questo nulla di speciale semplicemente itero sugli elementi della sequenza qui non è non sto iterando su una stringa sto iterando sulla lista quindi l'elemento di una il singolo elemento della lista a sua volta è una stringa poi su questa stringa volendo potrei andare a iterare carattere per carattere non lo sto facendo ma lo potrei fare se io però non li voglio uno sotto l'alto ma li volessi stampare così come stai sulle slide uno in fila all'alto separati da una virgola che è un po' quello che facevamo ieri devo stampare dopo ogni elemento anche la virgola per separarli quindi devo sapere se è il primo o non è il primo e quindi farò un po' di lavoro in più l'abbiamo visto ieri innanzitutto lo trasformo in una lista che lavora sugli indici anziché sugli elementi e quindi faccio la stessa cosa usando un indice numerico anziché un indice tipo valore perché? perché mi serve per l'indice per sapere che dopo l'ultimo elemento non devo più stampare la virgola quindi normalmente dovrò stampare amici di i senza aggiungere nulla poi se i non è l'ultimo quindi se è diverso da l'end amici amici meno uno dovrò stampare la virgola print virgola spazio end uguale niente e non andare a capo e alla fine del for invece vai a capo no? questo è grosso modo quello che avevamo già scritto ieri immaginiamo che questa lista di amici in questo caso l'ho indicata come lista seguo il suggerimento la domanda di Emanuele e dice ma facciamolo inserire come input all'utente va bene allora diciamo che l'utente può inserire l'elenco dovendo usare un ciclo poi tra un secondo vi faccio vedere come queste due cose si possono accorciare senza fare i cicli ma prima partiamo sempre dalla consapevolezza che lo sappiamo già fare allora io immaginiamo di voler leggere da tastiera questo leggo di amici quindi avrò un nuovo amico che lo leggo come input nome dell'amico e questa è una stringa e quindi se questa stringa non è la stringa vuota che useremo come sentinella per uscire quindi while amico non è la stringa vuota allora lo aggiungi amici punto append amico uso append perché aggiungo un solo elemento in una lista che perdono mi sono dimenticato di inizializzare chiaramente sarà questa volta una stringa una lista vuota e poi dopo che ho appeso un elemento leggo il prossimo ok allora proviamo questo programma nome dell'amico qui può qua eta beta cambiamo personaggio a questo punto quando batto l'invio quindi sono dentro questo ciclo while ogni volta leggo una singola stringa e la aggiungo alla lista quando batto invio uscirà dal while e mi stamperà uno dopo l'altro separati da virgola gli elementi che ho inserito se invece volessi inserire tutti i nomi degli amici tutti su una stessa fila su una stessa riga su una stessa linea sarebbe più complicato perché ce l'avrei sotto forma di stringa e dovrei andare a trovare i punti di separazione ci sono scusate faccio solo poi ancora un'operazione poi vi faccio vedere quando io inserisco questo nome dell'amico qui voglio vedere solo guardate non ho fatto passo 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 ok no non me lo fa mettiamo un breakpoint a volte lo va a volte lo non lo fa passo passo ok allora ho creato una variabile amici vuota poi leggo un nome qui e con questa operazione di append avrò la stringa la stringa qui che viene aggiunta come ultimo elemento nella lista amici che inizialmente era vuota e quindi sto costruendo un passo alla volta una lista di stringhe non una lista di numeri quindi dopo qui aggiungo quo e così via quindi l'operazione che sto facendo qui è di costruire una lista che contiene tanti elementi ciascuno dei quali una stringa poi quando esco da questo ciclo avrò quindi qui batto semplicemente invio avrò questa variabile stringa che voglio stampare in un certo formato che piace a me quindi separato da virgola eccetera eccetera quindi l'operazione che ho bisogno di fare qui è di prendere una lista e stampare una stringa nel formato che voglio io quindi convertire in un certo senso una lista in stringa oppure potrei fare l'operazione inversa se io avessi una stringa che è perdon una stringa che è qui lui fa fatica va avanti un peso per volta e mi scrive qui virgola qua ma se io avessi già questa stringa qui virgola qua quindi con i dati con i nomi separati già da virgola posso facilmente prendere questi valori e metterli in una lista e separarli ecco ci sono due funzioni gemelle che fanno questo valore allora questi slide raccontano essenzialmente quello che abbiamo fatto noi l'unica differenza è che loro aggiungono controllano se l'elemento è il primo o non è il primo e mettono o non mettono un separatore prima fatte con i cicli se no ci sono queste due funzioni dicevo gemelle che sono join e split che ci semplificano la vita in questi casi ad esempio la funzione join prende una lista di nomi ad esempio e crea una stringa unica in cui questi nomi sono separati da una stringa separatrice che viene prima che è la stringa su cui viene chiamato il metodo join questo metodo join è un metodo che si applica sulle stringhe e non sugli array quindi devo avere la stringa separatore punto join l'array che voglio convertire quindi in questo caso se io avessi questo array di stringhe degli amici tutto questo ciclo for lo potrei semplicemente sostituire da che ne so crea una stringa messaggio uguale virgola spazio punto join amici tutto questo ciclo significa semplicemente stampare questo messaggio poi ovviamente questa espressione join la posso mettere anche dentro la print quindi abbiamo letto questi amici in una lista di stringhe poi prendo questa lista le unisco usando la virgola come separatore e mi descrive così se io le vorrei separare anziché con una virgola semplicemente con uno spazio oppure con uno a capo oppure con un punto esclamativo quello che volete la sintassi è sempre la stessa questo è comodo perché perché in automatico il separatore non viene messo dopo l'ultimo elemento viene messo solamente tra ogni elemento e quello successivo che in qualche modo risponde alla domanda che mi facevate ieri ma come faccio stampare la lista senza mettere la virgola oppure senza mettere le parentesi quadre eccetera eccetera e beh la converto in una stringa usando il metodo join che mi dice come collegare tra i loro gli elementi il gemello di join è il metodo split che funziona esattamente al contrario il metodo split prende una stringa gli specifico qual è una stringa che contiene degli elementi separati da un certo separatore gli specifico qual è il carattere separatore da usare e lui mi crea una lista che contiene i vari singoli pezzettini quindi vediamolo in modo interattivo sotto se io creassi una lista una stringa che contiene i nomi dei miei amici qui virgola quo virgola qua perché magari l'utente l'ha inserito in una riga sola come faccio a separarli? potrei fare semplicemente nomi punto split sul separatore virgola e questo mi dà una lista che contiene tre stringhe perché tre erano i nomi separati da due virgole già direttamente divisi nomi di 0 1 2 nella posizione 0 1 2 ci sono i tre nomi cosa succederebbe se l'utente però avesse scritto le cose come scriverebbe un utente normale con lo spazio dopo la virgola beh in questo caso lo split fa quello che gli dico di fare nel senso che se dico che il separatore è la virgola allora il primo elemento è quello dall'inizio della stringa fino alla virgola qui il secondo elemento è quello che va dalla virgola fino alla virgola successiva e quindi questo spazio fa parte del separatore quindi se non ricordo male mettendo uno spazio come anche con il separatore mangia anche lo spazio perché intende che il carattere separatore è una combinazione di spazi e virgole attenzione che questo è pericoloso perché se non mi aggiungo eta beta se lo splitto sulla virgola me lo dà giusto ma ci sono questi spazi di troppo se invece splitto su virgola spazio prendi sia la virgola che lo spazio come separatore ah no è giusto me l'ha preso giusto avevo timore che spezzasse anche su eta beta però se io metto una virgola senza spazio a questo punto cosa capita se dimenticassi dello spazio eh già o è qua me li tiene insieme se prendo questo quindi ci aiuta molto ma deve ovviamente lavorare su dei dati di partenza che siano belli puliti perché uno spazio in più uno spazio in meno può cambiare il modo in cui viene spezzata la stringa allora la cosa più comoda è se noi avessimo un carattere di separatore unico senza spazi senza punteggiatore aggiuntiva allora a questo punto scusate separando su un singolo carattere lo divido in modo pulito se la separazione tra i vari elementi è più complicata può contenere spazi o no dei separatori multipli o no allora questo non è detto che funzioni con un colpo solo lo posso fare poi dopo faccio magari dei trim per andare a rimuovere gli spazi iniziali gli spazi finali all'interno della stringa questo lo posso sempre fare ok queste sono due operazioni già complesse e io direi di vederle poi dentro un esempio che possiamo fare dopo l'intervallo quindi ci prendiamo un po' di pausa come al solito e poi nell'intervallo vi preparo un esercizio che proviamo a risolvere nell'ora successiva va bene così e proviamo anche a mettere all'opera questi due operatori che sono complicati da spiegare ma poi quando il loro uso pratico è abbastanza semplice ok quindi se non avete esigenze o domande pressanti con le quali non riuscite a sopravvivere per i prossimi 15 minuti andiamo sul caffè e ci rivediamo alle 11.45 nessuno protesta e quindi diamolo per buono alle 11.45 riprendiamo tra 15 minuti buon caffè